Questo deve essere una foto che vi portate a casa per tornare il prossimo anno in questa serata bellissima Grazie a tutti, è stata un'emozione fantastica stare con voi E grazie a Roberto Basar, grazie a tutti voi Grande professionista e a un amico Grazie E anche da bene Buon anno per tutti